ciao bellissimi bentornati in un nuovo video ragazzi una fra le domande che ci stiamo ponendo di più in questo periodo dove va famoso ma sta passando pian piano la passione di mare fuori benzi ragazzi è stata girata la marina militare di quartier generale di napoli come ben possiamo vedere ragazzi sono state già hanno scattato alcune varie foto su questa marina militare si trova in questa via qui aspettate via ammiraglio ferdinando acton 1,80 132 queste qua ragazzi sono tutte quante le foto girate qui in questa marina militare 63 più foto se le volete andare a vedere le trovate su google maps ragazzi queste qui ragazzi hanno girato un sacco di foto video ragazzi più recenti giorni fa le hanno girato mare fuori fatemi sapere cosa ne pensate e niente ragazzi assurda questa cosa perché pensavo che in realtà ragazzi è la marina militare di napoli non lo so fatemi sapere ragazzi tramite un commento lasciate like ragazzi ciao bene ciao ciao ciao